Ciao a tutti, bene, grazie di essere venuti qui, grazie di essere qui il venerdì sera alle otto e mezza, so che non siete venuti qui per me ma siete venuti qui per Dio per imparare, però voglio onorarvi, grazie davvero di essere qui perché state investendo in voi stessi. Il tempo è prezioso, ormai non dico più che denaro perché non è che guadagno, quindi ho cambiato versione, per me è prezioso, per qualcun altro è denaro, quindi sicuramente per me il tempo è preziosissimo. Di cosa parleremo stasera? Come gestire le relazioni, ok? Io stasera è un tema molto molto interessante, prima il pastore voleva che trattassimo un altro tipo di argomento e poi mi ha detto, no guarda, preferisco che approfondiamo invece questo altro argomento, le relazioni, è un mondo, ok, quello delle relazioni. Quello che posso fare stasera è darvi una chiave, una chiave su quello che io ho imparato per le relazioni, anche perché la cosa più importante che vedremo stasera non è sapere determinate cose ma è metterle in pratica, soprattutto. Le relazioni, ragazzi, le relazioni sono davvero una sfida. Amen sì. Le relazioni, io spesso paragono le relazioni un po' a questo groviglio qui, l'ho visto una volta in una copertina di un libro e spesso paragono anche le relazioni ai gomitoli, sapete quando c'hai tutti quei gomitoli e mia nonna mi faceva raccogliere i gomitoli e tu li dovevi sfilare, non riuscivi mai ad arrivare alla punta del gomitolo. Quando una relazione ti si attorciglia come questo nastro, non voglio dire che è la fine, ma è molto complicato. Per l'esperienza che io ho avuto, la mia esperienza limitata, ho imparato proprio una cosa, che le relazioni sono importanti quanto complicate. Chi può dire la stessa cosa? Perché noi siamo complicati fondamentalmente. Io mi sono sempre chiesto perché Dio non puoi migliorare le mie relazioni da un giorno all'altro? Perché con un digiuno le mie relazioni, digiuno 50 giorni, 80, il doppio, il doppio. Ti prego, alcuni digiunano per morire e non avere più poi quel tipo di relazione lì, ma non succede, perché Dio usa e vuole usare le nostre relazioni per cambiare noi stessi. Tante volte mi sono chiesto perché mi devo dare così da fare per gli altri? Perché mi devo impegnare in questo modo? Perché devo coltivare determinate relazioni? Si è arrivato al punto di dire io non sono fatto per le relazioni, ok? Io non so, basta, mi arrendo, io non sono fatto per le relazioni. E poi capisci una cosa, che noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio, che Dio è un Dio comunitario, Dio è un Dio trino, padre, figlio, spirito santo, quindi dice tu sei fatto a mia immagine, a somiglianza, tu hai dentro di te la potenzialità per vivere una relazione, perché io sono un Dio di relazione, sono un Dio trino e c'è dentro di te questo seme della relazione, di saper tenere una buona relazione. Però poi c'è tutto un altro mondo attorno che rende la nostra vita molto molto complicata. Sapete, vi siete mai chiesti che cos'è che rovina una nostra relazione? Cos'è che rovina le nostre relazioni? Aspettate che mi si è staccato tutto. Perdonatemi, mi chiedo solo un attimo, perché mi sia spento tutto quanto. vediamo se riesco ad accendere. No, tranquillo, non c'è bisogno dell'applauso, di incoraggiamento. Non sono imbarazzato per questo momento, ve lo assicuro. tu stai cercando di risolvere, perché ah, la tecnologia, guarda, meglio le persone. È complicato. Vediamo, vediamo se resiste. sapete che cos'è che rovina le nostre relazioni? Quando è che Gesù ha detto Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Qua in questo caso era iPad, iPad, perché mi hai abbandonato? Non ho peccato in questo momento, però mi hai abbandonato. E nel momento in cui Gesù si è caricato di tutti i peccati, quella relazione si è interrotta. È il peccato che rovina una relazione. Le nostre relazioni, i nostri rapporti si rovinano quando sbagliamo e manchiamo il bersaglio, quando non riusciamo a colpire nel segno quello che in realtà dobbiamo fare. Pensate alle lettere di Paolo, ok? La maggior parte dei credenti ama le lettere di Paolo, io amo le lettere di Paolo, mi piace leggere tantissimo le sue lettere. Secondo me più del 50% ha a che fare con la relazione e con noi, con i problemi che noi viviamo. Perché siamo impazienti? Perché non riusciamo tante volte ad essere buoni e gentili? Vi siete mai messi come proposito devo essere buono e gentile? Ok? Arrivi neanche all'epifania e qualcosa cambia. Perché serviamo rancore e cerchiamo di vendicarci? Avete mai provato a vendicarvi di qualcosa? Non vi chiedo di alzare la mano? Io l'ho fatto. Perché tante volte rifiutiamo di collaborare? Perché diciamo tante volte alle persone delle cose che quando escono dalla nostra bocca dicono no perché vorresti rimangiarti di nuovo quello che hai detto? E Paolo parla di tutte queste cose perché alle volte ci allontaniamo dalla gente disgustati. Ok? Tante volte usiamo i muscoli dello schifo nelle nostre relazioni. Forse non diciamo delle cose brutte ma con la nostra espressione stiamo facendo capire a quella persona che non ci piace proprio. Perché tante volte mentiamo e cerchiamo di manipolare quelle persone? Perché a volte abbiamo un atteggiamento conflittuale con l'altro e non riusciamo invece a dominare l'invidia e non riusciamo invece ad essere autocontrollati per tutto questo. Facciamo tutte queste cose per un unico motivo secondo me. perché vogliamo fare a modo nostro? Perché vogliamo fare tutto come noi vogliamo. Vogliamo fare tutto nel modo in cui noi abbiamo scelto e nel momento in cui noi riteniamo più opportuno senza rispettare probabilmente i tempi dell'altra persona. Amiamo noi stessi e abbiamo un piano meraviglioso per la nostra vita. Abbiamo un sogno il problema è che quel sogno non coincide con il sogno di Dio per la nostra vita e il sogno di Dio per la nostra vita sono assolutamente le persone. Io sto imparando una cosa è che non possiamo prendere sul serio il Vangelo senza prendere sul serio le nostre relazioni e quello che dobbiamo cercare di fare stasera da stasera o continuare a fare è cercare di prendere sul serio le nostre relazioni e cercare di imparare dagli errori che noi abbiamo fatto nelle nostre relazioni. Io stasera vorrei darvi semplicemente una chiave quello che io ho imparato da tutte le volte in cui ho rovinato delle relazioni. Voglio essere sincero non sono qui per dirvi sono bravo nelle relazioni so fare questo so fare quell'altro riflettevo e dicevo in che modo alcune delle relazioni anche più importanti della mia vita si sono rovinate in che modo ho perso alcuni dei miei migliori amici in che modo non sono riuscito a capire a comprendere ad avvicinarmi in che modo ho ferito il mio discepolo in che modo non sono riuscito ad onorare il mio mentore il mio pastore o qualsiasi altra persona che era che era vicino a me ho letto questo sul libro che dice i due più elevati livelli di influenza si raggiungono quando uno le persone vi seguono per quello che avete fatto per loro e due le persone vi seguono per ciò che voi siete le persone si aspettano da noi qualcosa si aspettano da noi qualcosa voglio farvi vedere uno dei principi che ognuno di voi conosce che ha influenzato molto le mie relazioni nel bene o nel male no quello di prima non so se abbiamo guardate raccogliamo quello che seminiamo riceviamo quello che diamo c'è stato un ragazzo che mi ha detto io non ho amici quanto hai coltivato e quanto hai seminato nell'amicizia la gente non mi tratta mai con gentilezza quanti semi di gentilezza tu hai seminato in quella persona o nelle altre persone io credo nei principi di Dio e tirando le somme nella mia vita nella mia esperienza io ho visto che tante volte il mio errore è stato non seminare in una data relazione e in quella relazione a lungo termine non ho raccolto nulla anzi ho avuto soltanto una rottura questo avviene nei matrimoni questo avviene nelle cellule questo avviene nei discepolati questo avviene in ogni tipo di relazione e oggi voglio parlarvi di questo principio di questo concetto della semina e dell'investimento nelle relazioni ragazzi siamo in una città e non solo in questa città viviamo una realtà dove la nostra vita non è impegnata di più dove non abbiamo tempo dove se qualcuno ti chiede ci vediamo per un caffè inizia a sudare veramente guarda ci vediamo in autogrill siccome sto viaggiando ci vediamo lì prendiamo un caffè dove fai fatica anche dai stiamo un po' insieme e tu quando quando ma ognuno di noi chi più chi meno abbiamo una vita tanto tanto occupata e non riusciamo ad andare in profondità alcune volte parlo con alcune coppie anche di fidanzati e a volte fanno fatica anche ad avere un giorno alla settimana per vedersi ok non sanno quando stare insieme perché la nostra vita è veramente piena 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 di impegni e sapete che cosa che cosa manca qual è uno dei beni più rari di questo tempo che sta facendo male a molte relazioni l'attenzione c'è una mancanza di attenzione non siamo più attenti al bisogno dell'altro ma parlo di cose semplici ok non sto parlando ogni tanto mentre prego chiedo lo spirito di Clarissa dentro di me ok ma non sto parlando semplicemente di aiutare i poveri o di aiutare le persone che hanno bisogno sto parlando anche delle persone che stanno vicino a te di quelle persone che non conosci di quella persona che abita vicino casa tua del tuo discepolo delle persone che sono all'interno della tua cellula John Maxwell diceva questo guardate questa frase agli altri non importa quante cose sapete finché non sanno fino a che punto vi importa di loro puoi leggere tutti i libri che vuoi puoi avere tutte le rivelazioni di questo mondo ma fin quando la gente non avrà capito quanto a te ti importa di loro il nostro cristianesimo sarà sterile sarà sterile a volte rincorriamo il nostro successo personale lasciando tante persone indietro lasciando la nostra relazione indietro lasciando i nostri amici indietro facciamo attenzione a come ci stiamo comportando facciamo attenzione a come stiamo gestendo le relazioni le relazioni con gli altri ci sono tante volte in cui io vorrei usare questo per aprire la testa di alcune persone soprattutto quelle persone con cui io non riesco ad avere una buona relazione e tu vorresti essere lì ad aprire il cervello ok prima dai un colpetto tipo salmelone all'anguria per vedere se è piena e poi vorresti aprire quella testa per dire ok Dio tu hai detto che ci darei un nuovo cuore ti prego dai un nuovo cervello a questa persona sei lì tante persone anche nella nostra coppia tra mariti e mogli vorremmo cercare di cambiare il cervello perché Dio lascia subito il cacciavite quando sei lì che stai discutendo con tua moglie con tuo marito lascia lascia il cacciavite e inizia a pregare ma Dio guardate ragazzi Dio ci ha equipaggiato per vivere delle buone relazioni e noi vediamo queste armi in Galati 5.22 guardate leggiamo insieme cos'è che dice guardate il frutto dello spirito invece è amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mansuetudine e autocontrollo e io mentre leggevo questo verso ho ascoltato anche in giro mi piaceva vedere questi frutti dello spirito in questo modo questi sono dei tieni libri che mi ha regalato mia sorella e Dio mi dava questa visione e mi diceva guarda amore e autocontrollo spesso hanno questa funzione nella tua vita per vivere i doni dello spirito santo amore e autocontrollo reggono e danno vita a tutti gli altri frutti e genereranno dentro di te una vita che porta frutto e delle relazioni che portano frutto fateci caso una delle cose su cui facciamo più fatica è amare come Dio ha amato le persone e autocontrollarci tante volte diciamo ah io non riesco a controllarmi non so quanti di voi hanno mai perso la calma ma io non riesco a controllarmi lo spirito santo una volta mi ha sussurrato tu non vuoi controllarti no non riesci a controllarti il frutto dello spirito che lo vuoi far uscire quando ti conviene il frutto dello spirito è dentro di te la tua vita deve produrre questo frutto noi dobbiamo vivere nella rivelazione che è che noi possiamo avere questo autocontrollo e dobbiamo fare in modo che amore e autocontrollo reggano la nostra vita e le nostre relazioni non possiamo non possiamo avere i frutti senza radici e ritorniamo sempre lì al principio della semina ciò che semini raccogli quante volte abbiamo voluto abbiamo cercato di raccogliere delle cose buone dei frutti buoni nelle nostre relazioni quante volte ci siamo aspettati che le cose andassero in maniera diversa invece non sono andate in quel modo lì perché l'ingrediente più importante che mettiamo in qualsiasi relazione non è quello che diciamo non è quello che facciamo ma è quello che siamo tu metti in quella relazione quello che sei puoi dire tutto quello che vuoi puoi fare tutto quello che vuoi ma se non metti il tuo essere le cose non cambieranno ragazzi la relazione è un investimento la relazione è un investimento a volte conosco tante persone che hanno comprato libri per dire vediamo come posso gestire e vivere le mie relazioni in maniera diversa è tempo investimento è sacrificio tre giorni fa ho aperto il mio salvadanaio era pieno in un anno in un anno era pieno pieno di monetine sai quelle monetine che sei lì che proprio le snobbi diciamo ma che razza di monetine io ho imparato a vivere le relazioni come questo tipo di investimento investo giorno dopo giorno giorno dopo giorno e dopo un anno mentre la signora del supermercato contava le monetine e mi fa devo anche iniziare a fare il salvadanaio è incredibile come mia figlia riesce mia figlia di sei anni riesce ad avere più soldi di me con il salvadanaio e se ne è venuta in vacanza con 200 euro seminando euro dopo euro euro dopo euro oggi voglio parlarvi velocemente non sarò a lungo non non finiremo tardi di questo concetto si chiama il conto corrente emozionale come gestire le tue relazioni gestisci le tue relazioni facendo attenzione a come stai investendo nel tuo conto corrente emozionale guardate ognuno di voi sa cos'è un conto corrente penso di sì questo è un conto corrente ok questo è il nostro conto corrente il conto corrente è semplicemente un luogo in cui facciamo un deposito di denaro ok perché fai questo deposito di denaro perché nel momento in cui tu hai bisogno di denaro vai a prelevare dal tuo conto corrente e hai dei soldi da utilizzare puoi fare la spesa puoi comprare un regalo puoi fare qualsiasi cosa questo l'ho chiamato conto corrente emozionale che cos'è un conto corrente emozionale è un conto corrente che si riempie di fiducia e di amore e ognuno di noi ha un conto corrente emozionale ma molti lo dimenticano ok e quindi non riescono ad usare quello che hanno a disposizione che cosa significa questo conto corrente emozionale se io faccio dei depositi in questo conto corrente questo è il conto corrente emozionale di mia moglie se io faccio dei depositi di gentilezza Se io faccio dei depositi di amore, se io faccio dei depositi di Pandora, se io faccio dei depositi di affetto, di carezze, questo conto corrente si inizia a riempire. Se io le dimostro la mia fiducia, se io le preparo la colazione ogni mattina, questo conto corrente inizia a riempirsi. Se io guardo la sua serie tv preferita insieme a lei, questo si riempie di merendine e inizia. E tutto quello che faccio di bello, se io le mostro la mia gioia, il mio entusiasmo, questo conto corrente emozionale si riempie nei miei confronti. Che cosa succede quando il conto corrente emozionale di una persona è pieno di fiducia, è pieno d'amore, è pieno di gentilezza? Nel momento in cui io sono stanco e dico una parola fuori posto, c'è un prelievo. E avviene un prelievo nel suo conto corrente emozionale. Se le dico, dai amore, no, no, non guardiamo questa serie tv, guardiamone un'altra, c'è un altro prelievo. Il momento in cui le dico, no amore, dai basta, ma perché non vuoi fare questo? Amore, no, non mi piace che fai così. Il suo conto corrente emozionale si svuota all'improvviso. Ma lei non sclera fino al punto in cui il suo conto corrente emozionale è vuoto. Se io dico qua una parola fuori posto. Lei è capace di far parlare le pietre. Quelle merendine si trasformeranno in pietre e tutto andrà contro lui. Cos'è che voglio dirti con questo esempio, con questo conto corrente emozionale? Noi investiamo con i nostri atteggiamenti, con i nostri comportamenti nel conto corrente emozionale di quella persona. E dobbiamo fare attenzione, facciamo davvero molta attenzione, che il conto corrente dell'altra persona non sia in rosso. Perché quando quel conto corrente è in rosso, è lì che iniziano a rompersi le relazioni. Semina dentro la persona, semina. Se io dico una parola fuori posto, questo conto corrente è talmente pieno, che nel momento in cui io sbaglio con questa persona c'è un prelievo, ma c'è ancora deposito di fiducia e d'amore qua dentro. Le relazioni si rompono quando noi terminiamo tutti questi depositi di fiducia e d'amore. E lì, come? Con degli azioni scortesi, non mantenendo i nostri impegni, facendo i capricciosi, tradendo la fiducia di quella persona. Ogni volta non mi ha risposto subito al messaggio. Prelievo. Ho aspettato altri dieci minuti e non ha risposto. Prelievo. E quella persona è lì, pronta a prelevare anche il sangue. Prelievo. E tanta gente è lì che ti guarda e prelieva. Voglio dirvi questo. Iniziamo a vedere nell'altro un conto corrente emozionale in cui investire e depositare amore, depositare fiducia, depositare delle azioni che possono produrre una raccolta buona nelle nostre relazioni. E questo vale soprattutto nei matrimoni. Ok? All'interno del matrimonio è importante riempire questo conto corrente emozionale continuamente, continuamente. È incredibile. Non puoi fermarti mai. Poi capisci che è bucato. Ok? Devi continuamente, continuamente, continuamente riempire, riempire. Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. In che modo? Con parole d'affetto. Dicendo ti amo, sei bellissima, sei bello, sei l'uomo della mia vita. Sono delle cose che poi col passare del tempo non si dicono più. E questo conto corrente inizia a svuotarsi. E iniziano i problemi anche all'interno delle famiglie. È come quando le mamme dicono pulisci casa, metti in ordine il tuo letto, porta spasso il cane, hai messo a posto i piatti. Finita la giornata, il ragazzo termina con il conto corrente emozionale in passivo. E se lui in quel momento deve prendere una decisione importante nella sua giornata per la sua vita, lui non riuscirà a parlare con la mamma, con il papà o con quella persona che ha svuotato il suo conto corrente emozionale. E probabilmente quella decisione sarà influenzata dalla mancanza di amore e di fiducia che c'è dentro di lui. Mamma mia pastore, sembra complicata questa cosa. E non è facile. Le relazioni assolutamente non sono fatte, ma raccogliamo quello che seminiamo. Raccogliamo quello che seminiamo. Questo è un principio molto, molto importante. Che cosa significa deposito? Cos'è che devo depositare negli altri persone? Non lo so. Magari portare a tuo marito la sua rivista preferita, il suo giornale preferito, offrire o comprare il gelato a un amico, o dire una parola affettuosa all'altra persona quando magari non se l'aspetta, o probabilmente ascoltarlo senza giudicarlo e senza fargli la ramanzino, fare la maestrino o il maestrino ogni volta. Un deposito emozionale significa farmi sentire accettato. E tu stai riempendo il mio deposito emozionale e dire io mi fido di te, tu sei importante per la mia vita. E magari mandare un messaggio dicendo sai ti pensavo, ti voglio bene, sei speciale per la mia vita. O semplicemente dare precedenza con la macchina, tu deposito emozionale e tu depositi negli altri persone. Perché ecco la gente mi tratta sempre male! Perché probabilmente non stai depositando delle azioni di gentilezza negli altri persone. E il tuo deposito, la maggior parte delle volte, è in rosso. Fate attenzione perché nelle relazioni non avviene subito da un momento all'altro. Molte volte noi vogliamo che le cose cambiano da un momento all'altro. Ma ci vuole tempo. Nella semina ci vuole tempo. A volte ci spazientiamo. Anche a me succede di spazientirmi. Avete mai detto dopo tutto quello che ho fatto per lui, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto, guarda ho cercato di venire gli incontri, e invece non ha reagito come io mi aspettavo. Ma ci vuole tempo per investire nelle persone. Ci vuole tempo. Io questo salvadanaio l'ho riempito in un anno. Pieno di monetine. Non ci ho messo una settimana, non ci ho messo tre giorni. E tante volte tu in questo salvadanaio non capisci se è pieno, se è vuoto. È soltanto alla fine che ti rendi conto quando il tuo conto corrente emozionale è pieno. E soprattutto quando iniziano i problemi all'interno della relazione. Ora vorrei fare un esercizio molto veloce con voi. Cinque minuti. So che a tutti piacciono gli esercizi, per questo faccio gli esercizi. Fate così, prendete una persona, ok? Vicino a voi, qualsiasi tipo di persona, e facciamo un esercizio di deposito emozionale, deposito verbale nell'altra persona. E fai dei complimenti o deposita parole di gentilezza, di affetto nell'altra persona che hanno veramente senso. Fai attenzione perché i depositi verbali non sinceri sono prelievi. E se tu non sarai sincero ti rovinerai. Quindi ti consiglio piuttosto di non dire nulla e di non fare nulla. Ok? Quindi prendi una persona, ok? Guardati, guardati in giro, prendi questa persona, cinque minuti. e grazie. Grazie a tutti. 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 Nel momento. Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. 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 per tutti. Grazie a 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 tutti.